Marco, come va? Quanto tempo, incredibile! Davvero? E senti, è la tua passione per le auto? Vorrei avere più tempo. A proposito, devo cambiare auto, ci sono novità? Novità? Ma ti dirò, niente di nuovo. Peccato, non so cosa scegliere. No, mi sembra una scelta difficile. Beh, sai, io all'auto ci tengo. Ehi, ma tu, ma tu hai una tipo. Te l'ho detto che non è difficile scegliere. Grazie.